Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo alla lingua, quindi come impostare la lingua completamente al 100% nella tua lingua preferita, quindi in questo caso se ti ritrovi Windows nella lingua inglese, spagnolo, oppure c'è anche un difetto tipo che te lo ritrovi nella lingua russo, è possibile sistemare questo errore e rimetterla così nella lingua italiana. Quindi in questo caso andiamo direttamente sul nostro logo di Windows, qua sopra Start, tasto destro sopra e andiamo su System. Una volta fatto vai su Account, questo è l'account, scendi fino a giù fino a trovare così Backup di Windows, memorizza preferenze, ovviamente bisogna sincronizzare così l'account Microsoft in caso di ripristino, formattazione, ti può anche salvare le stesse cose che abbiamo fatto ora, quindi salviamo account, wifi, personalizzazione, accessibilità, io ovviamente non ho messo nulla, quindi per sincronizzare tutto vai su Gestisci. Sincronizza il tuo account Microsoft con Windows, quindi una volta sincronizzato e quando andrai così a fare un ripristino o una formatazione ci sarà Windows Backup, quindi caricherà le stesse cose che avevi sul tuo vecchio Windows, quindi non dovrai rifare tutto da capo, quindi fare la personalizzazione, rimettere la password, ovviamente vengono così come sta, non faccio nessuna sincronizzazione, per una sicurezza, per una cosa personale, quindi una volta fatto vai su Data, Ora e Lingua, vai su Lingua e Area Geografica, ed eccoci qua. Ovviamente la lingua che vogliamo mettere è italiana, io già la tengo, ho fatto un esempio ed eccolo qua, l'esempio aggiungi così una lingua e ho messo quella spagnola, ok, della Spagna. Una volta fatto ho installato così la lingua, si sta installando la lingua, quindi non devo fare altro che aspettare. Poi su Lingua di visualizzazione di Windows, come puoi vedere è spagnolo, quindi io metto spagnolo, scendo fino a giù, fino a trovare impostazioni amministrative della lingua. Ci clicco sopra, faccio su Copia Impostazioni, schermata iniziale e account di sistema, metti la spunta qua sopra, fai ok e poi ti dirà di riavviare il sistema con la tua lingua preferita. Se invece vuoi tornare indietro per mettere in un'altra lingua, vai sempre su Lingua di visualizzazione di Windows, scegli così la tua lingua e fai la stessa cosa che ho fatto prima. Impostazioni amministrative della lingua, copia Impostazioni, stessa cosa qua, fai ok e riavvia il sistema e hai risolto e cambierai così la tua lingua. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video, cerchi di utilizzare altre guide a riguardo, quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, ciao! Grazie! 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 Grazie!